La prima regola, in macchina non si puma, il secondo non si mangia, abrigio, le puttanate, non voglio che diventano un immondezzaio. Ci sono domande? No. Quale? Posso scendere? Troppo tardi, devi dirlo prima. Questa è l'Africa, non ci pensi. L'ho portato in un posto che l'avrò dimenticato tutta la vita. Questo è il bello di viaggiare, o no? Non succede niente per dieci anni, poi di colpo tutto succede tutto. Questa è vita, ragazzi. L'ho sentito il vento. Vento un cazzo, è la mia gomma, eh? Che piccoli avete preso, dai! Diego Batantuono in un film di Gabriele Salvatores, Marrakesh Express, mercoledì alle 20.30, su Italia 1. Con me ti sei sempre divertito, di di no, di di no! Y10 Evelyn, finalmente una donna in mezzo a tante macchine. Ciao, papà, come va? Ciao, cari, come ti sei? Luisa, help your brother. Yes, good idea! E allora, easy, ready? Dal 14 gennaio, Repubblica Regala, io parlo inglese. Un corso di inglese Zanichelli, completo di manuale, sei audio, cassette e dizionario. Ogni martedì e mercoledì in edicola. Io parlo inglese. Il corso che farà parlare tutti. Sorry! Che emozione, un fiocco, un regalo, inventarsi un'occasione, stupire e poi scartare, è la gioia di ricevere e donare. Tanti regalissimi aspettano solo noi. Con i punti Kinder e Ferrero scopri la gioia di tanti regalissimi firmati e sicuri per tutta la famiglia. Solo alla standa il bianco e l'altro bianco. Il bianco dei colori, sconti del 20 e del 50% sulla telleria e il bianco dei sapori. Prodotti alimentari bianchi a prezzi specialissimi. Standa, il valore dei soldi. De Agostini presenta I Maestri del Jazz, una grande raccolta di capolavori in CD e musica sette. In edicola al primo fascicolo e il primo CD con il grande Louis Armstrong al prezzo eccezionale di 7.900 lire. I Maestri del Jazz, una proposta. De Agostini. Collà Oro Blu, gioco sottile. Grazie per l'intervista. Nel mio lavoro l'alito fresco è molto importante. Per questo Tic Tac è sempre con me. Un piccolo Tic Tac rinfresca il mio alito per tanto tempo. Con solo due calorie. Tic Tac, tanta freschezza in solo due calorie. Se avvicinandoti al tuo televisore ti accorgi che le immagini tremano, ecco per te il nuovo sistema Philips Matchline 100 Hz, nato per darti immagini decisamente più stabili. Philips Matchline 100 Hz. Guardare la televisione diventa più rilassante per i tuoi occhi. Lascia che Philips ti apra gli occhi. Il contorno occhi è molto delicato. Per questo i laboratori Garnier hanno creato Synergy Bio Contour, trattamento per il contorno occhi. Tutta l'efficacia dei principi attivi naturali concentrati in un gel molto fresco, ipoallergenico. Synergy Bio Contour, risultato visibile. Le rucche si attenuano, le borse si riducono, le occhiaie diminuiscono. Synergy Bio Contour, l'alleanza della scienza e della natura per prolungare la giovinezza del viso. Garantito dai laboratori Garnier Paris. Scusi professore? Ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno, ha bisogno di qualcosa? Volevo sapere se sono normale. Giulio e Sandro, due tipi originali, due artisti strampalati, due incorreggibili donnaiori. E la Madonna! Si dice che dopo la battaglia di Varengo, i soldati improvvisarono un accidente che... Quando sentirei battere il cuore forte e forte, vuol dire che ti trovi davanti al caprone della tua vita. Se invece ti si gonfia il seno, allora vuol dire che sei incinta, ma dovevi pensarci prima, dovevi prendere la pillola. Alla follia. Renato Pozzetto, Nino Manfredi. Questo è quello. Questa sera, 20 e 30, Italia 1. Buongiorno. Buongiorno, nonno. Grazie. Prova con questi. Come mi trovi? Bruttino, ma simpatico. Fatte con la panna. Ah, leggo anche la panna adesso. Al mattino, scegli le macine del mulino bianco. Semplici, gustose, fatte con la panna fresca, per una sana prima colazione. Mangia sano. Torna alla natura, con mulino bianco barilla. Papà, vorremmo qualcosa di dolce. Compratevi quello che volete. Ma Carlo, per loro c'è Kinder Cioccolato con più latte e meno cacao. Che buono! E con Kinder Cioccolato. Io sono tranquilla. Perché è quello con più latte e meno cacao. Anche su Kinder Cioccolato trovi i punti dei regalissimi firmati e sicuri. Grande enciclopedia Treccani. Appendice 1992. Treccani scolpisce lo spazio del nuovo sapere. Nei momenti più duri e impegnativi, quando è indispensabile la massima concentrazione, bisogna essere in piena forma. Per questo, fin dal mattino, è importante alimentarsi bene. Nutella è contento. Con tutta l'energia del latte e delle nocciole. Con tutta la sua buontà. Pane e Nutella. Energia per fare e per pensare. Anche su Nutella trovi i punti dei regalissimi firmati e sicuri. No one can do the things you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Y10 Eve. Finalmente una donna, in mezzo a tante macchine. I got it. Uè, bella gente, da domani mondo gabibbo, eh, mi raccomando. Ho portato infatti degli ospiti internazionali, Bud Spencer e Teresil, Terminator 2, La Vendetta e tanti altri. Bella, di roba incredibile, appena arrivata, tutta la messaggia, c'è rivoltata la trasmissione. Brava! E la Cecilia, a che ora diami nota? Da domani alle 14.15. Mi raccomando. Ci vediamo domani, ciao. Ce ne vediamo, eh. Italia 1. Mondo gabibbo. Da domani alle 14.15 su Italia 1. Welcome to my world With my arms unfurled Waiting just for you Welcome to my world Amaro Verna Il gusto pieno della vita De Agostini presenta I Maestri del Jazz Dal mitico Louis Armstrong al geniale Maes Davis I Maestri del Jazz suonano per voi in una grande raccolta di capolavori in CD o musica 7 Per chi ama il jazz I Maestri del Jazz In edicola al primo fascicolo la prima parte del repertorio discografico e il primo CD con il grande Louis Armstrong al prezzo eccezionale di 7.900 lire I Maestri del Jazz Una grande proposta De Agostini Ogni giorno Panapesca cerca per te le bontà più prelibate del mare Dalle gelide correnti polari dove la natura è incontaminata il mare più ricco e generoso fino alle tiepide acque tropicali Panapesca sceglie per te il pesce più fresco Il freddo è l'unico ingrediente aggiunto alla natura Panapesca Il pesce più buono Tom, sassofolista E io sono la regina d'Inghilterra Citroën AX First Compact Disc L'auto della nuova generazione Nuovo Shampoo Stu, Stu, Stu Shampoo Express Due in uno Studio Line di L'Oreal Shampoo più trattamento balsamo Due in uno Schiuma extra dolce Pettinabilità extra Shampoo Express Luminosità extra Extra morbidezza Shampoo Express Due in uno Studio Line Capelli due volte più belli Belli subito Shampoo Express Due in uno Di Studio Line Tu handyia Tu handyia Belli subito